collegata al tuo modem sicuro non sta facendo un altro aiuto modem non sto avendo sti problemi dagli altri giochi non li ho solo su fortuna il problema quindi due sole cosa e la play non ce la fa più batti mi carica pure la grafica delle cose piano la scheda di video si sta fottendo ok ok brollo vuoi famas blu no c'è non ne ho bisogno tu ce l'hai uno? si aspetta tu sei gettata? tu sei gettata? tu sei gettata tu sei gettata helicopter dai polpetta guarda che pilota che sono senza rompere niente guarda guarda che sono tutti là va bene bene un atterrato guarda che è là un atterrato un atterrato un atterrato scende 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 un atterrato un atterrato oh il combat il combat odia un atterrato anche l'altro polpettina eccolo un atterrato uno qua polpettino mio che macello quattro kill più di quattro se ne fate quattro appunto guarda che forse ne fate di più c'erano due team dietro ma sei sicuro? avevo visto una luce qua come se si facesse una flash che cazzo c'è minchia quanti combat peccato che non c'è cosimo dove siete? c'è pure il combat epico tutti vicino tutti vicino veloce veloce vai spara devo aggiustare l'inventario c'è un casino vieni che faccio ballare coso vieni che faccio ballare coso spero che vedo se carico la questione qua ne manca in safe io andrei a prendere l'indrop dopo qua prima 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 la cassa a forfas mi fa bruciare però oh ma sei buggato prendo la scheda andiamo l'impateri io non lo voglio questo ogni volta la no prendi la sfer tagli l'acca che c***a minchia guarda erano da brissare uh scatti faccio il potere si lascialo la ok e vuole guante nooo dove sono andato vabbè ragazzi bro c'è la miteriatrice tattica epica quel ti piace a te eh devo ritornare po' sono uscito c'è lo frame lags il termine di ecco questo ok sì mi ricordo ok è cittino mi sa che lo tolgo eh lo scar lì l'intraiatrice bro colpetta lo scar l'ambito di attraverso le lascio quella piccola la sciocola grande sì questo è più utile c'erano già io una il pompa blu mi serviva pure del nonno eccolo qua non ce n'è tutti combats eh eh lascio il cecchino vi porto io porto io la palla vuoi poterlo questo qua è buono colpetta tieni eh ma poi si spegna l'improvviso fa così non è come la macchina reale che la riserva che fa fare almeno 20 km ma ancora c'è guarda che non si può attaccare la mappa di forza non è che sia tanto grande alla fine da qua qua è come se fossero 20 km ma mi sta laggando più volte morire quando fate laggare le cose fammi spegnere il wifi dal tenere ma chiuderanno fortnite ho letto perché grazie tiger mi hai fatto fare una missione brava brava la 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 mamma che precisione bro no ma è galactus ehi è galactus raga via 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 adesso devo stare andiamo via ma attenzione c'è un player là lo vedo davanti a me bro ho fatto ho fatto ballare ora quando dura io si butta ma questo quando dura sto cazzo di cosa fammi prendere il materiale io volete un po' di materiali ah no sono pieno sono pieno sono pieno eccoli borgo vieni con me vieni con me vieni con me guarda ma che schifo quasi al volo 24 vai col petino spara non ci arriverà mai la ci arrivano i suoi proiettili bro il mio no ma lo vedi che si fermano scompaiono va no no non scompaiono 4 player sono la non ve le strutture non ve le strutture non ve le strutture fai cadere tutti oh ho fatto 35 con il potere ho peccato a caso giuro safe dietro bro ce ne dobbiamo andare andiamo siamo geni safe ma tu stai cechinando si si ma c'è anche un cecchino sono tre player sono tre player un cecchino loro è la è la è un player lì eh atterrato atterrato dietro o no è galactus copriti colpetta viene da me copri però fai la struttura così la curi sono coperto però sono la colpetta curati curati vedi che c'è un git medico qua no no ne ho già tre tanto poi lo prendo quello che cos'è copriti polpetta che sono dietro di te ho le splash venite raga vieni qua polpetta vieni qua ve lascia ve lascia ve lascia tutti vicino raga sono la sono due eh due bastardi sono eh aia aia adesso lo prendevo brutto a fugire di quello con la gran puttana uuuh cenni oh mamma io sal 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 ho ancora la palladito mi di nuovo va Porta i testi da lì Ma non vanno i corsi Te lo giuro Ha cerrato uno da Cazzo E' la puttana C'è il pompa Ucciso E' il pompa buono Vaffancula mamma Mi avevo fatto una cittinata L'ho ucciso io Mi preoccupato Ho vendicato Grazie E' il pompa buono E' il pompa buono E' il pompa buono E' il pompa buono